ciao ciao amici sono il carletto e come sempre questo è il mio canale dove vado a recensire statue doll action figure cavaliere dello zodiaco mit cloth robo shokin tutto quello che è il mondo del collezionismo che noi adoriamo e anche oggi insieme a noi c'è l'amico raffa a tutti i ragazzi e siamo qua per presentare tutti e cinque i samurai samurai e andremo poi a recensirli anche fare un paragone con quelli che usciranno poi il futuro della sentinel perché questi che recensiamo oggi sono i bandai allora voglio iniziare la recensione così vai raffa preparati baghiamo guardate le gambe come dondolano guarda come dondolò con il twist spoppa raffa perché ragazzi dondolano dondolano perché il grande problema di queste figure che ci ha fatto bandai eccezionali secondo me però ha un grande difetto che sono le anche che si spaccano in questo caso sono incolate ma poi vedrete nelle altre recensioni che si staccano proprio le gambe ci rimarranno in mano e allora facciamo questa intro delle gambe come dondolano perché sono mollissime ed è stato il grandissimo difetto dei cinque samurai di casa bandai quindi è giusto partire in questo caso secondo me dal grandissimo difetto che ha fatto arrabbiare tutti quanti allora vediamo subito quello che è rimasto nella scatola poi vediamo tutto nel dettaglio per cosa faremo raffa saremo gli unici che vi facciamo vedere un 2 per di ogni samurai e vedrete girare insieme sempre il samurai e il totem e anche l'armatura ragazzi quindi bellissime recensioni in mezzo al verde anche quest'oggi abbiamo deciso così speriamo che non ci assalgono le zanzare e partiamo a vedere quello che è rimasto nella box e poi vediamo tutto nel dettaglio allora amici 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 non vi abbiamo fatto vedere che cosa raffa il box che poi anche l'unico è il primo box di rio che rio nel samurai del fuoco il potere suo è il fuoco bravo raffa cosa fa guardate questo è il fronte del box questo è il retro con 107 euro 80 l'hai pagato una fucilata marcatroia 107 e 80 guardate praticamente cosa succede si apre a libro quindi guardiamo qua così ma adesso andiamo a levare la parte interna perché è giusto che vediate quello che è rimasto che non troviamo al di fuori poi non c'è un libretto che c'è sotto ragazzi sapete che noi facciamo le recensioni così questo qua è il libretto non riesco neanche a vedere oggi se c'è talmente tanto sole allora guardiamo velocemente qua il libretto è semplice come sempre bandai ci fa vedere quello che c'è all'interno vedete tutto quello che troviamo vedete come andare attaccare i pezzi vedete messo giù a totem e messo giù a cavaliere ma oggi ragazze avrete la fortuna di vederli insieme tutti e due adesso vendiamo il pesce qua 5 euro al chilo allora allora vi faccio vedere lo mini del samurai all'interno della scatola guardate aspetta però se noi gli amici non vedono niente andiamo a scoperchiare se non ci sono i riflessi del sole vedete ragazzi questo è lo mini dei samurai all'interno con un po di mani e di qua all'altro elmo che non gli è messo con le due spade perché lo vedremo già montate sul mio ragazzi è quindi questa qua vediamo se anche raffa al problema delle anche no a guardate che fortunello il suo alle anche buone quindi la canzone riguarda come dondolo a lui riguarda solo il mio e l'ottanta per cento delle persone che hanno questo samurai allora questa post facciamo di vedere la spada e le tre manine che queste qua comunque sono i copripugni che troviamo già sul sul mio samurai quindi dai raffa abbiamo fatto vedere tutto adesso andiamo a far vedere le altre parti rimanenti sul totem e sul samurai meglio di così ragazzi non si può partiamo ora a vedere subito allora il samurai guardate qua allora vi faccio vedere bene bene il samurai questo qua è il samurai con tutta la sua armatura applicata devo essere sincero anch'io qua rio per fortuna le gambe non sono completamente spezzate come vedremo dopo in alcuni samurai guardate che bello che facciamo di primo un mezzo busto oggi abbiamo i riflessi del sole l'altra volta c'era poco sole ragazzi oggi ce n'è troppo quindi facciamo fatica addirittura a vedere la telecamera dove registriamo comunque guardate che bella la parte bianca guardate la parte qua delle punte argentata guardate la che bella armatura nel dettaglio è fatta bene sì sì ma secondo me l'armatura raffa nel dettaglio più bella di quella di casa sentine che secondo me è un plasticone guardate qua la vedremo poi guardate bene il dettaglio guardate bene anche l'aggancio la parte dietro delle due spade no l'armatura è veramente ben realizzata il grande difetto di queste figure sono state come abbiamo detto le gambe vedete perché per il resto non si può dire niente grande difetto sono state le gambe le anche che si spaccano tant'è vero che poi dei ragazzi che fanno custom hanno iniziato a fare come si chiamano a fare le repro apposta delle anche che comunque si trovano in giro per ovviare al problema però se li si mette con una basetta stanno su anche se non li rifacciamo le anche fai vedere raffa adesso quello che tu hai fatto a samurai poi mettiamo levagli lo sgabellino vedete sotto non c'è guardate qua il viso ovviamente perché è il totem guardate che bello che è così ci vogliono vedere che dici così raffa si va bene guardate che bello che anche quando devi mettergli la spada no no ci sono già dietro infatti nelle fodere vedete così mente è messo giù a totem guardate cos'è veramente veramente bello secondo me rio si o meno gli hai messi rossi dei messi neri qua il totem è così a perché il totem non è bravo bravo tutti i totem sono tutti con la parte nera dietro sul tallone dai vediamolo girare due minuti in una posa e samurai e col totem anche a fianco ragazzi guardate che spettacolo guardate come sono belli come è bello questo rio del fuoco dei cinque samurai abbiamo voluto fare anche questa recensione dei cinque samurai così in mezzo alla natura per farveli vedere però purtroppo come potete vedere siccome hanno le anche molli se non addirittura spaccate ragazzi in questi qua nei cinque samurai va usata per forza la basetta guardatevi girare un minutino così perché secondo me ne vale veramente la pena tu che dici meglio dei sentinelle bandai peccato solo anche tu a parte le anche pure io sono che sono molto meglio e bandai anche perché hai parti in metallo invece quelle sentinelle maggior parte un plasticone pettorali le gambali tutto maggior parte dell'armatura in metallo hai poche parti in plastica che sono le parti laterali neanche parti laterali praticamente quando monti l'armatura i primi pezzi poi restano tutto metallo come dico sempre a volte una stupidaggine rende un prodotto che potrebbe essere eccezionale molto criticato come in questo caso le anche che ragazzi questo è veramente un brutto è un problema perché ci obbligano praticamente a tenere il personaggio esposto con la basetta questa qua secondo me io le odio le basette ma pure io però ti ripeto se sentinelle è tutta plastica stiamo parlando di un prodotto che praticamente le uniche parti in plastica sono i copripugni se quelli la il resto tutto metallo tra nei spallacci e l'elmo che anche se un po metallo un po plastica ragazzi per me i bandai ci sono eccezionali sono eccezionali veramente ragazzi è è inconcepibile il prezzo che hanno preso ad oggi questi personaggi qua secondo me è inconcepibile anche per il difetto che hanno però se proprio li vogliano tenere senza basetta li facciamo farle repro delle anche quindi è un problema che diciamo con le anche rifatte altrimenti con le anche rifatte vanno in vetrina senza basetta e sono di gran lunga più belle di dei nuovi sentino secondo altrimenti mio parere personale se uno non vuole come dire rotture di scatole può mettere il totem che anche stupendo così si è vero il totem è bellissimo può mettere il cavaliere a fianco il totem è vero il cavaliere samurai a fianco il totem anche così esposti sono bellissimi infatti non è che stiamo parlando di una scelta poi impossibile cioè cosa faccio samurai con l'armatura o oppure senza se volete ragazzi mettete senza di fianco il totem se forse anche più bello il totem con affianco il samurai ragazzi è vero in questo caso dai andiamo a concludere che l'han già visto benissimo secondo me amici giunge al termine farò vedere ancora anche qua la recensione del samurai tropper giusto rio del fuoco qua lo vedete in totem alla mia destra l'ha portato il buon raffa qua lo vedete in samurai e che dire secondo me è veramente bello questo samurai qua peccato per il grande difetto delle anche delle anche che però si possono rifare come dico sempre se vi volete aggiornare sulle uscite se volete vedere cose che magari vi siete perse tutti iscrivetevi al mio canale e mettete la spunta sulla campanellina poi come sempre lo potete fare andando in alto dove esce adesso la mia faccia con il guanto di danos anche in quel modo cliccando lì e facendo iscriviti ciao amici mi raccomando continuate a seguirci nelle nostre recensioni pazze ciao a tutti